Buongiorno da Mattino 6 per questo giovedì 23 febbraio. Come sempre iniziamo ricordando il santo del giorno, oggi si ricorda San Policarpo. Andiamo a vedere i titoli di apertura dei quotidiani, iniziamo dalle pagine del centro nell'edizione dedicata a Pescara. Mare vietato, i balneatori si ribellano, Pescara costretti a realizzare piscine in spiaggia per attirare i clienti. A centropagina professori pescaresi in piazza a Roma, protesta al ministero, vogliamo il posto fisso in Abruzzo. E poi all'interno Bruxelles l'Unione Europea avverte l'Italia rischia tre infrazioni. La politica scontro nel Partito Democratico, Orlando si candida e Errani se ne va. E poi la scoperta nasa la Terra a sette pianeti gemelli. Nelle cronache e inchieste appalti spuntano altri indagati coinvolto il teramano Cantagalli. Pescara organizzavano funerali ma erano abusivi. E poi a Città Sant'Angelo arriva il ministro dell'istruzione inaugurata a palestra. La tragedia dell'hotel Rigopiano, Bergoglio venga a Farindola, lacchetta incontra il Papa con una delegazione di cittadini. Il Pescara dececco dice Zeman, il padre Pio del calcio. Di taglio alto terremoto in maltempo, D'Alfonso vede Gentiloni, ecco la lista dei danni. La conferenza, Stato-Regioni slitta il piano lupo, si cerca un'intesa. L'edizione è dedicata alla provincia di Chieti, l'inchiesta si allarga ai costruttori, appalti il noto teramano Cantagalli tra i quattro nuovi indagati. E a centropagina Pupillo mostra lo scempio, la Villa delle Rose, tra degrado e abbandono. Il sindaco difende il progetto. Nelle cronache mascherate le statue romane del museo. E poi in dranghet ha preso il rapinatore del commissario. Rocca San Giovanni colpo a Sarni, il bottino sale a 270 mila euro. Cupello le spaccano auto e porta di casa, donna perseguitata chiede aiuto, adesso ho paura. E poi vince Bologna, proger basket a un passo dalla vittoria storica. L'edizione è dedicata alla provincia di Teramo, l'inchiesta degli appalti, teramani indagati coinvolti Sabatino Cantagalli e gli imprenditori di Giulianova e Roseto. A Ponzano crollano altre case, il sindaco chiede aiuto al capo della protezione civile. Nelle cronache teram e terremoto, brucchi alla camera, dice venite qui a vedere. E poi morto mentre sciava, cordoio in città per la scomparsa di Pettinaro. A Sant'Egidio violenze alla ex il giudice via da quell'abitazione. Il calcio, il recupero finisce 2 a 0, il Teramo rivede la vittoria. Battuto il Pordenone si torna a sperare nella salvezza. E poi promozione il Real Giulianova, ipoteca all'eccellenza. Nelle cronache dedicate alla provincia di L'Aquila, Palazzo Centi, un altro indagato, turbativa è un componente della commissione amministrativa. A centropagina ritrovato, antico reliquiario, l'Aquila custodiva e i resti di San Giustino, trafugati 20 anni fa. Nelle cronache, centro giuridico di Avezzano, il caro affitti intervenga alla giunta. Le elezioni all'Aquila, la pezzo pane, dice le primarie, sono l'unica strada. A Sulmona gli albergatori dicono no ai migranti. E poi il caso all'Aquila manifesti o sé per avere clienti, le associazioni delle donne, contro l'iniziativa di un ristorante. Ad Acciano, Cacio e Pepe, i segreti dello chef, Simone Valloni. Titoli di apertura del quotidiano Il Messaggero, Teramo inchiesta sullo stadio, l'Aquila sesto filone, sugli appalti accusato di corruzione l'imprenditore Cantagalli, Palazzo Centi, altri indagati. Paolucci ha dichiarato il parco di Lanciano, bastava sentirmi prima. E poi la frana non si ferma più, Teramo le case evacuate, salgono a 37, parliamo della frazione di Ponzano. L'Andrangheta patti con i Rom, vittime costrette a spacciare, Pescara spunta un imponente traffico di cocaina lungo la costa. Defanis, il verbale del contratto d'amore. E poi Avezzano pugni in piazza, una studentessa finisce K.O. Di spalla cercasi Brand per rilanciare una regione senza identità. Laureati in fuga delle imprese ai minimi e allarme. Di taglio alto, volley si è cortona, stasera sfida Grotta Zolina per la salvezza. La Lega Pro, il Teramo, batte il Pordenone, tre punti d'ossigeno puri. Il calcio, la Serie A, parlare Cerri, Pescara nel destino, sognavo una giornata così. Titoli di apertura del quotidiano, la città. Si allarga l'inchiesta in regione, altri quattro indagati, aperti altri due filone di indagine su un ristorante giuliese e un costruttore teramano. A centro pagina, la strada giusta, la Lega Pro, il Teramo, torna a vincere dopo 80 giorni. Accordo al BIM per Franco Iacchetti, il montoriese verso il terzo mandato, alla Presidenza. Rosetto degli Abruzzi, il patrimonio Villa Clemente, rischia il crollo. Il terremoto Mosciano fa scuola sulla sicurezza. E poi lutto a Teramo, Giovannino Pettinaro, morto per un infarto. I Borghi e le frane a Ponzano è come se fosse il terremoto a Castelnuovo trovata una soluzione. Di taglio alto il rilancio passa anche dal nucleo industriale, oltre l'emergenza. E poi Brucchi alla Camera dice venite in città a rendervi conto dei danni. Andiamo a vedere i titoli di apertura dei quotidiani nazionali. Iniziamo dalle pagine del Corriere della Sera. In apertura taxi, così le nuove regole. Il nodo dei trasporti, parla il ministro, dopo la protesta, che ha bloccato le città. Rientra la serrata. Del Rio dice non cedo alla piazza, ma le auto Uber dovranno lavorare nelle loro zone. E poi ora Grillo ferma lo stadio a Roma. Si fa, ma non lì. Titoli di apertura della Repubblica. Aborto, assunti, non obiettori. Lorenzin e Ivescovi insorgono. Uno scontro politico sul concorso per garantire le interruzioni di gravidanza. I medici sono divisi. Zingaretti dice rispettata la 194, altre regioni con lui aumentano gli interventi clandestini. E poi Renzi punta all'Election Day l'11 giugno. Bono e Bill Gates, Africa e Trump, noi vogliamo un mondo migliore. Il fatto quotidiano in apertura terremoto e rani la ricostruzione non esiste proprio. Il commissario, la registrazione su panorama, l'inviato del governo nelle zone devastate confessa. Non si è fatto nulla su casette, macerie e viabilità. E poi calcio e politica, la svolta in Campidoglio. Grillo dichiara rischi alluvioni, lo stadio via da Tordivalle. Troppo deficit. L'Unione Europea dice manovra o vi multiamo. Il Renzi pensa alle primarie lampo. Bisogna trovare 3,4 miliardi entro aprile oppure ci sarà una procedura di infrazione. I titoli d'apertura del messaggero. Piano taxi, ipotesi, rottamazione. I comuni potrebbero proporre un indennizzo per le licenze. Il precedente del commercio, Palazzo Chigi, media fra auto bianche, NCC e Uber. Un centinaio gli identificati per gli scontri. E poi Grillo, lo stadio frena sì, ma in altra zona. Pallotta dice una catastrofe, il leader a Tordivalle rischi idrogeologici. Si tratta con la Roma, tifosi contro i grillini. La stampa apre con Renzi negli Stati Uniti. Cerco idee antipopulisti. Conti, l'Unione Europea e il governo dovete fare di più. Gentiloni ribatte. Non ci siamo mai fermati a San Francisco con l'ex premier che incontra i vertici di Apple. Airbnb e Tesla. Mi interessa il messaggio positivo della New Economy. Mattarella, alleanza cinese investite nel nostro paese. Titoli di apertura del giornale. Due inchieste su volontari complici degli scafisti. Falso buonismo. Le organizzazioni non governative aiutano i trafficanti di esseri umani a portare migranti dalla Libia. E poi gli scheletri nell'armadio. Pensione, carriera e benefici fuori legge. Ecco perché Emiliano non molla la toga. Il tempo fra costi sostenuti, cause di risarcimento, tasse e pil, il no di grillo al nuovo stadio costerà ai romani 8 miliardi di euro. Niente impianto a Tordivalle. Beppe spiazza la città, tifosi e club. Il presidente Pallotta ha dichiarato che catastrofe chi investirà più a Roma. E poi i titoli di apertura del mattino. Caro spesa, riecco l'inflazione. L'Unione Europea e l'Italia di centro aprile. La manovra bis via libera al decreto sud. Più sgravi. A gennaio il costo della vita torna a più 1%. Aumenti record per frutta e verdura a causa del petrolio e del freddo. E poi i preti e sesso con minori. Napoli apre un'inchiesta in procura a un dossier su un sacerdote di Pozzuoli. Libero salvano le banche uccidendo i clienti. Le sinistre proteggono i ricchi ladri. Non bastava a Monte dei Paschi di Siena sale il conto per non far fallire le due popolari venete. In tutto 15 miliardi. Per questo l'Unione Europea ordina la manovra che pagheremo con più tasse e conti correnti più cari. Lo Stato gioca in borsa, perde 3 miliardi con i titoli tossici e alza le imposte. Titoli di apertura dell'Unità e i nuovi seminatori di odio amnesti da Trump a Orban la demonizzazione degli altri come strumento politico. E Salvini minaccia le barricate in Parlamento per impedire l'approvazione dello Ius Soli. E poi la legge 194, il Lazio assume medici non obiettori. Arriva il no della CEI. Il Partito Democratico non deve essere un partito solo per vecchi. Ed ecco cosa pensa la generazione nata sotto l'ulivo e che ha conosciuto l'impegno politico con il Partito Democratico. L'avvenire apre con Unione Europea meno austerity contro l'esclusione. Dobrosky dice sforzo per ridurre le diseguaglianze. Il fatto, intervista al vicepresidente della Commissione Europea per l'Italia, correzioni credibili o a maggio scatterà la procedura di infrazione. Il manifesto apre con il titolo. Maidi Regol, lo stadio della Roma, manda in tilti 5 stelle, annullato l'incontro tra Raggi e la società, vertice in Campidoglio con Grillo. E si pensa di annullare la delibera sulla pubblica utilità dell'opera. Poi l'ultima trovata del leader sia allo stadio ma altrove. Pallotta dice lo stop sarebbe una catastrofe. E poi l'aborto CEI e Lorenzin contro il San Camillo di Roma. Assumere medici non obiettori si può. Il gazzettino, l'Unione Europea l'Italia, conti a rischio. Bruxelles conferma l'ultimatum, entro aprile una manovra da 3,4 miliardi o scatta la procedura di infrazione. Per l'economia unica concessione, la proroga di un mese per l'eventuale sanzione. Il tesoro dice riconosciute le nostre ragioni. Il secolo XIX, Berneschi ha otto anni per la truffa a Carigi e altri sette condanne con fische per decine di milioni. L'ex presidente ha dichiarato mancava solo che mi sparassero. E poi il retroscena, il PM, i conti segreti scoperti grazie ai patti con la Svizzera. La gazzetta del mezzogiorno, euro ultimatum all'Italia, Bruxelles, manovra entro aprile. Paduan dice è nel nostro interesse. Renzi e il PD io penso al futuro. Emiliano risponde non mi ha richiamato. E poi il decreto sud diventa legge e Taranto respira. Obiettori e esclusi dal concorso. Lo stop agli antiaborto scatena un putiferio. Chiesa e ministro contro Regione Lazio. Iniziamo a sfogliare le pagine del quotidiano Il Centro. In apertura ancora il caso dell'inchiesta della Procura della Repubblica di L'Aquila. Politica, inchieste, Palazzo Centi e Regione, altri quattro indagati. Nelle carte della Procura dell'Aquila anche l'imprenditore Terramano Cantagalli, un dirigente amministrativo e due professionisti. Il primo dei due nuovi filoni si riferisce a una vicenda legata a un contributo pubblico ottenuto a Giulianova per un'iniziativa immobiliare nell'ambito del quale, secondo l'accusa, ci sarebbero state sollecitazioni nei confronti di alti rappresentanti della Regione a interessarsi della pratica in seno alla sovrintendenza. I fatti sono del 2015 e sono indagati in concorso per un atto contrario ai doveri d'ufficio Giovanni Mosca, ingegnere, e Roberta Caralla, imprenditrice proprietaria di un locale nel centro giuliese. Nel secondo filone indagato il notissimo imprenditore terramano Sabatino Cantagalli, per una vicenda risalente al 2006 a Teramo. In quel periodo l'imprenditore era impegnato nella realizzazione del nuovo stadio di Teramo e del vicino centro commerciale Gran Sasso. Cantagalli ha realizzato lo stadio Bonolis di Teramo e lo terrà in gestione per 30 anni tramite un project financing. Va ricordato che al momento non ci sono contestazioni precise ma verranno confezionate più in là, anche per consentire ai sospettati di difendersi. E poi la polemica politica, il PD contro il forzista Febbo, attacchi sconclusionati. L'assessore indagato parla a Paolucci, dice orgoglioso di quella delibera, Paolucci dice nessun falso, è sufficiente guardare le carte. E' proprio in riferimento a quella che ieri era la notizia del nuovo filone d'indagine che coinvolgeva tre assessori, tra i quali Silvio Paolucci. Vediamo questo servizio. Dopo il presidente della regione Luciano D'Alfonso, altri tre rappresentanti della giunta regionale risultano indagati. Si tratta degli assessori Silvio Paolucci, Marinella Sclocco e Dino Pepe, coinvolti nell'ambito di un quarto filone appena emerso nell'ampia inchiesta coordinata dalla Procura della Repubblica dell'Aquila, che vuole vederci chiaro su alcuni appalti gestiti dalla regione Abruzzo. Quarto filone che riguarda i lavori di riqualificazione del parco comunale Villa delle Rose a Lanciano. I tre assessori sono indagati per falso ideologico per aver partecipato alla riunione dell'esecutivo e votato alla delibera della giunta abruzzese numero 367 del 3 giugno 2016 relativa proprio al parco Villa delle Rose. Su questo stesso fronte sono indagate altre sei persone. L'inchiesta coordinata dal PM Antonietta Picardi e condotta dai carabinieri del NOE e dalla squadra mobile di Pescara promette ancora sviluppi a breve. L'appalto sul parco di Lanciano è tuttora in corso e ha un valore di 1,5 milioni di euro, 1,2 assicurati dalla regione e 300 mila stanziati dall'amministrazione comunale. Due giorni fa gli investigatori sono tornati a Palazzo Silone all'Aquila per sequestrare alcuni documenti, tra cui la suddetta delibera. Il quadro generale delle indagini si fa sempre più complesso. Sono 27 gli indagati per corruzione, abuso d'ufficio e turbativa d'asta, tra cui funzionari regionali, professionisti, imprenditori, oltre al presidente della regione e i tre assessori. I tre precedenti filoni già emersi la scorsa settimana sono quelli relativi alla ristrutturazione post-terremoto di Palazzo Centi all'Aquila e i due del pescarese, per cui risulta indagato il governatore D'Alfonso, uno inerente preventivi di spesa per la manutenzione di immobili a terra a Pescara. L'altro interventi previsti dal masterplan per il comune di Letto Manoppello, D'Alfonso, che sarà difeso dagli avvocati Giuliano Milia e Antonio Valentini. Intanto già in questa settimana prenderanno il via gli interrogatori. Domani davanti allo sostituto procuratore Antonietta Picardi si presenterà l'imprenditore Mauro Pellegrini della impresa Dipe, difeso dall'avvocato Massimo Carosi. È indagato nell'ambito della gara per la ricostruzione di Palazzo Centi, poi toccherà ad altri indagati, oltre che persone informate sui fatti. E a parlare sul quarto filone dell'indagine, quello che coinvolge il parco Villa delle Rose di Lanciano, è proprio il sindaco Mario Pupillo. Benvenuti a Villa delle Rose, il polmone tossico di Lanciano. Il parco è in stato di degrado, un intervento finanziato da comune e regione, vuole rimetterlo in sesto. Il sindaco Pupillo ha dichiarato il progetto è tutto dei nostri tecnici, e ora c'è la procedura per la selezione delle ditte. E poi Bruxelles contro Roma, arriva l'ammunizione dall'Unione Europea. L'Italia rischia tre infrazioni, entro aprile serve la manovra. La Commissione chiede correzione dei conti per 3,4 miliardi, rinviate eventuali sanzioni, i giudizi duri, squilibri eccessivi, rallentate le riforme. Padoan dice che non dobbiamo fare di più. E poi nel Mirino, anche la Germania, c'è la multa per l'Austria. Di taglio basso, l'Istat, l'inflazione, verdure e benzina sono carissime. Sull'anno i prezzi salgono dell'1%, ed è il dato più alto dell'ultimo triennio. E qua nelle pagine del centro, proprio il prospetto con gli aumenti. Non cediamo alla piazza. Taxi incubo del governo, ripreso il servizio dopo la protesta, Del Rio ha dichiarato riordino serio, ma stop a violenze. Oltre 100 persone identificate e una denuncia per i disordini nella capitale. Ha provato quasi all'unanimità l'avvio di un lavoro con i tecnici del Ministero, con i noleggiatori, da finire entro un mese per regolare il settore. Qualcuno teme trappole. Di spalla il Sial, mille proroghe. Ci spostiamo allora sulle pagine del messaggero. Anche qua in apertura si parla del caso degli appalti, dei due nuovi filoni di inchiesta. Sullo stadio di Teramo, L'Aquila contesta la corruzione all'imprenditore Sabatino Cantagalli, Palazzo Centi, avviso al tecnico Giovani, era membro della commissione di gara. E poi sul parco di Lanciano, a parlare proprio l'assessore Paolucci, dice, sarebbe bastato chiamarmi. L'assessore accusato di falso ideologico, dice, posso dimostrare che quella delibera ha avuto un iter regolare. E poi la calamità, D'Alfonso alla Camera, dice, servono 144 milioni. Nel corso degli eventi legati al terremoto si è verificata una serie di coincidenze mai viste prima. Lo ha detto in commissione ambiente della Camera il governatore D'Alfonso. Al momento abbiamo affrontato spese per fronteggiare i danni per 14 milioni. Inoltre, aggiunto dal punto di vista degli interventi urgenti, abbiamo fatto una stima di 144 milioni, che però devono essere ancora coperti finanziariamente. E poi sempre l'assessore Paolucci, il collega Pepe, a parlare anche lui all'interno di uno dei filoni d'inchiesta, ha detto piena fiducia nella magistratura, mentre Marinella Sclocco preferisce rimanere in silenzio. De Fanis, a parlare a Ella Zingariello, dice, per me aveva un'ossessione. Dal verbale emerge la segretaria del politico sotto processo, che ha dichiarato mi fece firmare il contratto d'amore e mi diede 2.000 euro. A Pescara, l'Andrangheta, spuntano patti con i Rom, Il Bello e Ciabot, due esponenti della famiglia Spinelli, in affari con l'organizzazione di Cuppari per la cocaina. Negli atti dell'inchiesta della procura distrettuale antimafia, le intercettazioni che provano il salto di qualità dei locali. Dopo Isola Felice, 2, un'altra prova dell'interesse delle famiglie calabresi per l'area costiera. E poi le vittime costrette a trasportare droga. La legge della mala, un commerciante strozzato dall'usura, ha detto dopo le botte, mi chiesero se ero disposto a fare dei viaggi per loro. Dal Cenacolo ai clani, il brutto risveglio di Francavilla, nel Mirino, abbiamo anticorpi, dicono sindaco e commercianti, ma dal passato spuntano presenze inquietanti. Psicoterapia, l'ASL sedute e ridotte, è rivolta a dei pazienti. Il distretto di Pescara Nord garantisce solo un appuntamento al giorno. Gli esposti alla procura sulla guerra, delle direttive interne. L'alternativa è rivolgersi a liberi professionisti con costi enormi o sottoporsi a cure a base di farmaci. E poi l'inferno domestico, picchiano il padre, gemelli arrestati nelle cronache sempre su Pescara. Rigopiano, rischio valanghe, ignorato dal 99, l'ingegner Giorgio Morelli, consulente del sindaco di Farindola ed ex capo di Meteomont, rivela l'allarme lanciato dal comune. Inascoltata anche la richiesta di aiuto del 17 gennaio, erano 19 i paesi con gravi criticità, replica il sottosegretario Mario Mazzocca. Dalle indagini difensive sul Rigopiano emerge la volontà di attribuire la responsabilità alla regione. E poi i primi cittadini a Roma nel Pescarese i danni sono per 60 milioni di euro. Anche la provincia di Pescara con i suoi 46 sindaci sarà a Roma giovedì prossimo 2 marzo per chiedere al Parlamento nuovi provvedimenti per far fronte all'emergenza che ha riguardato tutto il territorio. Popoli crociata per l'ospedale, la marcia contro la chiusura, la battaglia. Venerdì 3 marzo la manifestazione davanti alla sede della direzione dell'Asle in campo tutta la Val Pescara. Il tantamma del movimento avanti tutta dopo l'audizione in conferenza dei capigruppo. Andiamo avanti sempre sulle pagine del messaggero L'Aquila il sindaco Bafile supplica Lolli cialente contro i cerchi magici. Lettera aperta del decano democrat Giovanni il candidato sei solo tu. Pezzopane dichiara i sondaggi non bastano la strada giusta è quella delle primarie. Gli schieramenti PD sempre più divisi sulla scelta dell'aspirante primo cittadino e adesso è Bagarre. E poi l'inchiesta alla ricostruzione e l'udienza sui subappalti il prossimo 3 aprile. L'Aquila Futura Sant'Angelo la caserma della finanza in pericolo per colpa della regione. Il caso di Spalla seggiovia è chiusa Pignatelli dice si è rischiato. Cronaca ad Avezzano una ragazza picchiata nel piazzale grave studentessa di 19 anni vittima il primo soccorritore è stato l'avvocato Cascere che ha dichiarato i vigili mi hanno detto che erano impegnati gli inquirenti sospettano che ad agire sia stato un giovane che aveva incontrato poco prima si verificano le deposizioni le associazioni di categorie intanto chiedono al sindaco un vertice sulla sicurezza comunale e poi un caso a Roccaraso giornali diffamatori fatti in casa partono querele diffusi giornali diffamatori nei confronti di politici locali e regionali indagini in corso da parte degli inquirenti finalizzate a individuare gli autori materiali della pubblicazione la divulgazione per mano di ignoti sarebbe avvenuta qualche mese fa nelle ore notturne ma solo ora si è avvenuti a conoscenza della notizia i giornali ripropongono fotografie forse estratte da facebook ritoccate di amministratori dei comuni di Roccaraso Castel di Sangro e familiari oltre a esponenti politici regionali ad ogni immagine è legata una didascalia che mette in evidenza presunti illeciti attribuibili ed appalti affari ritenuti sospetti manifestazioni musicali e vicende strettamente personali andiamo avanti a Chieti Maltauro impresa in regola ma spunta un altro ostacolo scaduto il termine dall'asle non arriva la dichiarazione di pubblico interesse il progetto dei privati ora è ricevibile ma va definito il DEA di secondo livello un nuovo ospedale i tempi destinati ad allungarsi ma intanto l'assessore Paolucci dà il via libera a 34 assunzioni e poi rubava negli uffici pubblici e ora rischia il processo un'inchiesta in corso di spalla una sciata nel passato ecco Oppela Maiella l'evento appuntamento fissato per domenica mattina sulle piste di Passo Lanciano per questa stimolante iniziativa rifiuti ex ipodromo e ZTL quante spine a Lanciano tante polemiche anche per il settembre lancianese gli esclusi chiederanno al comune l'accesso agli atti sulla gestione della Ecolan pesa ora il ricorso della rieco o zona traffico limitato con il nuovo regolamento via i semafori il silenzio calato sull'inchiesta Central Park investiti già 300 mila per la riqualificazione delle vecchie tribune e poi avvasto la Tari un voto unanime per evitare gli aumenti ammettere il fiatone al comune due delibere della Civeta per tappare i buchi di bilancio dell'ente aumentare le tariffe Teramo la Frana non si ferma più case evacuate arrivano a quota 37 il caso di Ponzano la collina scende a valle alla velocità di un centimetro all'ora il parlamentare Sottanelli a Montecitorio 300 in fuga non si potrà ricostruire a parlare l'assessore De Dominicis di Civitella che dice un limbo legislativo il paese tra poco scomparirà e allora vediamo quelle che sono le immagini di Ponzano dove da 11 giorni non si ferma la Frana vediamo il terremoto e il maltempo che ha colpito il centro Italia sta cancellando una popolosa frazione del Terramano Ponzano di Civitella del Tronto ormai è una località fantasma strade scomparse case distrutte inclinate e altre che sono destinate a crollare la Frana che ha un fronte di oltre 30 ettari continua a muoversi e laddove ora ci sono case inagibili non si potrà più ricostruire chi ha costruito la sua vita a Ponzano ora dovrà spostarsi altrove sono complessivamente 98 le persone che hanno dovuto abbandonare le rispettive abitazioni 33 le case distrutte i vigili del fuoco impegnati con uomini e mezzi ormai da settimane nella frazione stanno ancora garantendo assistenza ai residenti che devono recuperare le proprie cose nelle case distrutte uno scenario drammatico in continua evoluzione oltre una settimana dopo l'avvio della Frana Ponzano di Civitella del Tronto ha perso buona parte delle sue caratteristiche le misurazioni attraverso il GPS effettuate dalla protezione civile hanno misurato uno spostamento di oltre 8 metri e mezzo una Frana che non si arresta anzi la preoccupazione è che lo spostamento della terra possa in qualche modo toccare la zona al di sopra del grosso muro di contenimento la strada provinciale 8 è stata chiusa al traffico la Frana ha provocato ampie fratture sulla strada di oltre 10 metri grande lavoro in questi giorni per i vigili del fuoco in servizio presso il comando di Teramo che stanno lavorando per lo svuotamento dei depositi di GPL installati sui terreni in Frana effettuati in collaborazione con le ditte distributrici mediante la combustione in fiaccola del gas ancora contenuto nei serbatoi Paolo Marsan geologo della protezione civile nazionale è stato a Ponzano e accompagnato dagli amministratori ha effettuato un lungo e accurato sopralluogo per monitorare lo stato delle cose la zona non è immune da Frane ha sottolineato il geologo una peleofrana la definita il grosso accumulo di neve che poi si è sciolta ha avuto l'effetto di alimentarla di rimetterla in moto con lo scenario che ora è sotto gli occhi di tutti a Ponzano è arrivata anche la sezione operativa dei vigili del fuoco di Parma che ha dato il cambio a quella di Rimini impegnata insieme al personale del comando di Teramo fin dal giorno di inizio della Frana ad assistere la popolazione così duramente colpita da questa emergenza ancora sulle pagine del messaggero il sindaco di Teramo alla Camera ha detto il capoluogo nel cratere anche i commercianti aderiscono alla marcia su Roma e il 2 marzo i negozi resteranno chiusi per protesta e poi usura un imprenditore chiedono la scarcerazione in Val Vibrata l'Inail sbaglia ditta chiede sbaglia e la ditta chiede il risarcimento a Giulianova imprenditore era stato denunciato per omesso versamento dei contributi previdenziali ed anche moltato non era vero in città scoperti anche due episodi di richiesta di pagamento per prestazioni mai fornite da parte di professionisti teramani e intanto resta la polemica sulla mancata rottamazione delle cartelle comunali al Badriatica licenza non ha norma lo stop ad un locale della Movida ci separiamo per una breve pausa e poi la seconda parte della nostra rassegna stampa tra poco seconda parte della nostra rassegna stampa torniamo sulle pagine del centro con la politica nazionale lo scontro nel partito democratico Renzi dice litigi sul nulla meglio pensare al futuro l'ex leader PD dà appuntamento all'ingotto Orlando si candida e Rani se ne va Orfini annuncia l'uso della fiducia per lo Ius Soli dura polemica dell'opposizione e poi il caos in Campidoglio Grillo dice sì allo stadio ma non a Tordivalle di spalla richiedenti asilo condannata alla Lega per i manifesti la NASA dice la Terra ha sette gemelli annuncio mondiale dell'ente spaziale americano scoperte a una distanza di 40 anni in luce i pianeti sono quasi uguali per dimensioni il loro raggio è il 15% di quello terrestre con temperature medie simili alle nostre si cercano tracce di vita Stati Uniti Trump lo spettro delle espulsioni di massa il nuovo bando metterebbe a rischio oltre 5 milioni di stranieri illegali e poi il Viminale entro giugno il piano migranti la ricetta del ministro Minniti integrazione e accoglienza diffusa assunti due non obiettori la Lorenzina ha dichiarato la legge violata il caso al San Camillo di Roma Zingaretti difende il concorso per ginecologi ma il ministro della salute si schiera con i vescovi della CEI è discriminazione sulle pagine dedicata alla nostra regione lo scontro sul documento slitta l'approvazione del piano lupo il ministro dell'ambiente Galletti chiede un incontro alle regioni troppe bufale in giro il nostro scopo è la tutela l'ISPRA valuterà caso per caso se concedere la deroga ci sarà cautela nel procedere in caso di branchi che gravitano nei parchi nazionali e regionali e poi l'intervento il via libera gli abbattimenti incentiva i bracconieri l'intervento di Michela Brambilla 100 milioni di danni indiretti da Alfonso vede Gentiloni in agenda i fondi per le popolazioni colpite da sisma e maltempo a Pescara il mare è un'estate di divieti la rabbia dei balneatori costretti a fare le piscine ad Apollo è quasi pronta Gilda avvia le pratiche ma per tutti è una sconfitta e allora a parlare sono proprio i balneatori che dicono sul mare pulito solo bufale dai soliti quattro politici per questo stiamo preparando anche noi il progetto Cardelli dice possiamo inventarci qualunque cosa anche le palme low cost ma sono solo palliativi vogliamo risposte certe a parlare anche Terra che dice è un problema di tutta la città Rimini ribaltavano il comune se in consiglio non si raggiungeva il numero legale per il depuratore e infine Pagliari l'attività stava morendo non potevo più andare dietro alle barzellette dei nostri amministratori queste le spese sostenute dagli imprenditori proprio dei stabilimenti balneari il comune non ha il piano demaniale per concedere le autorizzazioni si fa riferimento alla normativa regionale e slitta dopo l'estate l'abbattimento della diga forane la notizia arriva dal provveditorato delle opere pubbliche dopo mesi di promesse annunci e date disattese e allora ieri a parlare c'era anche la CNA Abruzzo proprio sui ritardi sulla realizzazione delle varianti al nuovo depuratore li abbiamo ascoltati vediamo Tomei mancano pochi mesi all'inizio della stagione balneare si parla ancora di problemi del mare del fiume di Pescara di questi lavori per il nuovo depuratore che potrebbero prolungarsi siete preoccupati? certo che siamo preoccupati un problema annoso che si ripresenta puntualmente ogni anno prima della stagione senza che ci siano risposte né per le imprese balneari e tanto meno per i cittadini a questo punto cosa bisognerebbe fare secondo voi? innanzitutto da parte delle istituzioni della politica dei segnali chiari e operativi noi ci siamo lamentati perché il Consiglio Comunale è andato deserto l'altro giorno su un provvedimento che comunque è un forte aiuto è una forte risposta per il problema dell'inquinamento voglio dire se non si colgono queste occasioni per poter fare delle cose in questo caso un secondo depuratore voglio dire come riusciamo a prepararci di fronte alla stagione e soprattutto come facciamo a dire ai turisti e ai cittadini che si stanno facendo delle cose e che siano sicuri i predatori balneari sono a dir poco arrabbiati anche perché quella passata è stata una stagione record con numeri negativi per i balneatori ma per tutto anche l'indotto il rischio è che anche il prossimo anno la prossima estate possa ripetersi tutto questo certo noi abbiamo peraltro effettuato un'indagine su 54 comuni costieri italiani dove il fatturato e gli arrivi sono aumentati e su Pescara abbiamo scontato invece questa negatività per i problemi legati appunto alla balneabilità ecco questo è il terzo anno francamente insomma diventa difficile poter pensare che le cose possono migliorare se continuiamo in questo modo restiamo a Pescara dieci anni di maltrattamenti preso a calci e forbiciate dai figli per soldi il giudice pone agli arresti domiciliari due gemelli e vieta loro ogni contatto con il padre volevano denaro per la droga e poi pistole e cocaina nascoste in casa è stato arrestato un 38enne sempre sulle croniche di Pescara il NAS scopre al funerale che l'impresa è abusiva i carabinieri accertano che una ditta di pompe funebri che opera nel pescarese sprovvista delle autorizzazioni dell'ASL e dispongono la chiusura immediata e poi la fotonotizia via Valle di Rose e D'Alfonso nelle case ex Gescal il presidente della regione D'Alfonso ha incontrato ieri sera alcuni residenti nel comprensorio ex Gescal in Valle di Rose ha verificato le urgenze legate alla manutenzione abitativa e annunciato che presto ci sarà un dossier per la valutazione tecnica incastrata la banda che rubava auto in tutto l'Abruzzo tre pugliesi finiscono in trappola scuola la protesta a Roma le professoresse pescaresi dicono dateci il posto in Abruzzo i nastrini rossi di nuovo sul piede di guerra non vogliamo trasferirci al nord e separarci dalle nostre famiglie incontro con il sottosegretario del ministero sabato la giornata finale al Mantone workshop sulla comunicazione e poi la solidarietà fa sport un progetto per la disabilità coinvolte scuole e associazioni i sindaci di centrodestra dicono non vogliamo i profughi respinta da dieci comuni la richiesta del prefetto di ospitalità per i richiedenti asilo troppe emergenze da fronteggiare e nessuna garanzia per l'ordine pubblico a Montesilvano servizi sanitari a ASL la guardia medica tramuffa infiltrazioni disagi irrisolti l'edificio inaugurato nel 2005 in via Inghilterra si trova già nel degrado dopo i rilievi del NAS il comune apre le selezioni per cercare un altro locale di spalla la protesta ai negozianti multe al semaforo favore ai centri commerciali confesercenti va all'attacco non si può fare cassa penalizzando i cittadini con questa manovra il comune fa terrorismo e allontana i clienti dalle attività del centro a Città Sant'Angelo il ministro apre la nuova palestra a Fedeli inaugura il nuovo edificio in legno costato un milione di euro Florindi dichiara il complesso sarà usato solo dagli alunni dobbiamo proteggerlo e poi a Montesilvano gli studenti incontrano il sindaco di Pescara Marco Alessandrini Pianella passi carrabili no alle tasse il consigliere di Tonto lancia la protesta Balsello che va eliminato nel resort 40 appartamenti l'impresa tratta con il sindaco a Francavilla la costruzione sul mare è ferma da 8 anni il primo incontro per il cambio d'uso una delibera del 2013 blinda la trasformazione dalla destinazione turistica a quella residenziale e poi di spalla Francavilla Palazzo Sirena Italia Nostra si riunisce a Pescara a Manopello servizi sociali parte il nuovo piano assemblea tra 22 amministratori per decidere la gestione a Francavilla invece il carnevale domenica la sfilata i biglietti a partire da 4 euro la tragedia di Rigopiano il sindaco dal papa dice venga a trovarci lacchetta con la delegazione farindolese porta pecorino e olio a Bergoglio la comunità distrutta ha bisogno di speranza e poi di spalla i cuccioli salvi sempre di Rigopiano il papà di Jessica ne adotta uno lo scontro sui messaggi di allarme i consulenti di Farindola ignorati ma zocca replica la protezione civile informata a scafa auto ribaltata nel corso d'acqua il giovane che era la guida del mezzo è riuscito a mettersi in salvo da solo la cronaca su Chieti l'inchiesta su usura cocaina e roghi il complice di Cupari rapinò il poliziotto andrangheta anche Cricelli finisce nella retata dei carabinieri fece da palo nel colpo in casa del commissario Costantini a Rocca San Giovanni il colpo grosso a Sarnioro il bottino sale a 270 mila euro e poi gli organici della sanità quattro primari per Lanciano l'assessore Paolucci firma il nulla osta per 34 assunzioni all'ASL sull'Aquila il furto sacrilego antico reliquiario ritrovato a Parigi Paganica il braccio di rame dorato custodiva frammenti ossei di San Giustino i carabinieri l'hanno recuperato dopo un'attesa durata 25 anni di taglio basso i manifesti osè per attirare nuovi clienti affissione pubblicitaria di un ristorante contestata dalle associazioni casa delle donne dell'Aquila la pagina dedicata a Teramo l'emergenza frane Ponzano crollano altre abitazioni il sindaco chiede le casette di legno e scrive al capo della protezione civile servono fondi per risarcire chi ha perso tutto stroncato da un infarto ex dirigente scolastico muore sciando a Campo Felice ora invece ci spostiamo sulle pagine del quotidiano la città in apertura i nuovi filoni dell'inchiesta della procura della Repubblica di L'Aquila due filoni teramani nell'inchiesta in regione le indagini della magistratura aquilana si allargano e puntano anche su Giulianova e Teramo oltre al presidente D'Alfonso e al segretario Claudio Ruffini indagati anche tre assessori firmatari della delibera sul progetto Masterplan di Lanciano per Villa delle Rose Silvio Paolucci Marinella Sclocco e Dino Pepe e poi il ristorante Giuliese la presunta corruzione aggravata per i Giuliesi Giovanni Mosca ingegnere e Roberta Caralla imprenditrice un imprenditore teramano nel filone indagato anche il costruttore Sabatino Cantagalli per un fatto risalente al 2006 di spalla la politica ginobile nella commissione del congresso per i DEM la direzione nazionale del partito ha votato la commissione per il congresso nazionale nella quale è stato inserito anche il parlamentare rosetano Tommaso Ginobile di taglio basso inascoltati per anni gli allarmi lanciati dal comune di Farindola lo studio nella relazione del 1999 la guida alpina Iannetti chiedeva che venissero effettuati gli studi sulla sicurezza e poi venite a Teramo a rendervi conto dei danni il sindaco Brucchi invita i parlamentari a prendere coscienza dei problemi e della risposta inefficace dello Stato nuova giornata di audizioni alla camera per il sindaco Brucchi il presidente della provincia di Sabatino e anche il governatore della regione Luciano D'Alfonso di taglio basso di Stefano taglia il cordone umbilicale con Forza Italia l'ex assessore vicino ai leoni di Fitto rinuncia all'incarico da portaborse in regione ancora Teramo Gatti e di Dalmazio concordi sul polo in centro migliaio di posti nell'area stadio comunale San Giuseppe per ora è l'unico che non avrebbe copertura e poi la giustizia e i tribunali bloccati per lo sciopero degli onorari oltre all'emergenza il rilancio imprescindibile dalle nuove imprese il nucleo industriale di Sant'Atto è una potenziale miniera d'oro contro desertificazione e spopolamento Confindustria chiede politiche di sviluppo servizi e sgravi per le ditte la UIL contesta la politica che ha scippato il consorzio addio alla donna del risanamento dell'università il senato ratifica con dispiacere le dimissioni di Maria Orfeo presto il bando per individuare il successore il consorzio BIMO un accordo per il terzo mandato di Franco Iacchetti e poi Giovannino Pettinaro è stato stroncato da un infarto il dirigente scolastico e attivista cittadino ieri mattina ha avuto un malore mentre sciava a Campo Felice l'impegno nell'arte nella poesia nella pedagogia nella politica e nel quartiere Gammarana teatro di tante battaglie questo il ricordo progetto liberi al liceo scientifico delfico il migrante sale in cattedra per raccontare la sua storia la provincia a Ponzano è come se ci fosse il terremoto le case continuano ad aprirsi in due pronto il progetto per mettere in sicurezza Castelnuovo di Campli il ministro dice sulla situazione di Castelnuovo e Ponzano ieri è intervenuto il ministro Galletti interrogato dall'onorevole Giulio Sottanelli ha promesso le dovute risorse finanziarie soldi a strozzo mai chiesti tassi usurari gli arrestati confermano il prestito ma non gli interessi al 500% gli avvocati dei due arrestati hanno chiesto i domiciliari per entrambi i loro assistiti e poi a Martinsicuro noi con Salvini chiede alle civiche di superare le divergenze a Martinsicuro gli tolgono la patria potestà e perseguita la ex donna tartassata di telefonate e messaggi offensivi anche sui social network Mosciano fa scuola sulla sicurezza l'amministrazione presenta gli indici di vulnerabilità e il progetto del nuovo polo e poi l'intervista mancata Gabriele Filipponi muro di gomma sul futuro del PD e la sua candidatura a Roseto Villa Clemente rischia di crollare appello dei consiglieri Nugnes e Marconi per salvare lo storico edificio il teatro nel 1997 l'area è stata individuata come luogo per la nascita di un teatro o un centro culturale a Silvi il campo federale sarà completato con i fondi comunali dalla FIGC è arrivata circa la metà del mezzo milione necessario per finire i lavori e poi di spalle si torna a parlare della morte del baby calciatore parla all'avvocato della famiglia che dice Marco poteva essere salvato sulla vicenda dell'imputazione coatta del medico del 118 accusato di omicidio colposo per la morte di Marco Calabretta il bimbo di Pineto deceduto mentre giocava a calcio interviene il legale della famiglia Giulio Calabretta per alcune precisazioni in una nota il legale sostiene che nella perizia sulla scorta della quale la procura aveva inizialmente chiesto l'archiviazione del fascicolo non fosse scritto che anche utilizzando il defibrillatore Marco non si sarebbe salvato e poi apriamo la pagina dello sport un diavolo barbuto Pordenone battuto 2 a 0 la prima rete dell'attaccante e l'autogol di Semenzato consegnano una vittoria che mancava da 80 giorni dopo un'astinenza di 80 giorni i biancorossi ritrovano il sorriso grazie alla vittoria contro i neroverdi la squadra di Ugolotti sale a 24 punti e ora è a meno 2 dalla salvezza diretta e allora il resoconto della partita di ieri nel servizio di Andrea Costantini vediamo contro un avversario sulla carta scomodo è difficile il Teramo ritrova il sorriso e quella vittoria che mancava dal 4 dicembre il 20 novembre in casa con un gol per tempo il diavolo supera il Pordenone con una prova specie nell'ultima ora finalmente gagliarda di tempra pragmatica come nello stile del suo neotecnico Ugolotti che nel pregara mantiene la parola aveva detto che ci sarebbero stati cambiamenti ma sorprende nella modalità rispolverando la difesa a tre con Altobelli Caidi e Speranza tandem d'attacco Barbutti-Sanzovini nel Pordenone restano in panchina Sucio e Berrettoni c'è Pietribiasi al fianco di Armà Cattaneo alle loro spalle la partita però è al Cloroformio nella prima mezz'ora Ritmi a dir poco Blandi Teramo con i soliti limiti e Pordenone incapace di approfittarne tra uno sbadiglio e un altro si distinguono per modo di dire un destro docile di Amadio e sul ribaltamento di fronte un tiraccio di Cattaneo al 26esimo Ugolotti è costretto al cambio forzato Baccolo si fa male e lascia il campo a Ilari e il cambio porta bene al Teramo visto che al 36esimo Ilari va a prendersi un pallone in area friulana Gentino Maggio di Buratto che rimedia in calcio d'angolo ma dal successivo corner il Teramo sblocca la situazione con Riccardo Barbutti che da posizione defilata controlla e conclude di forza la sfera trova il pertugio giusto e infila Tomei per il centroavanti prelevato dal Lumezzane e il primo gol in bianco-rosso la rete infiamma ed un colpo la partita al 40esimo Sanzovini pesca Barbutti che incrocia debolmente un minuto dopo a seguito di un fallo a centrocampo si accende una mischia furibonda dal mucchio selvaggio prontera di Bologna individua due elementi da sacrificare uno per parte imparato nel Teramo e ingegneri nel Pordenone rosso per entrambi e le due squadre in dieci uomini Burrai scala centrale il Teramo invece si resiste ma quattro in difesa ripresa Teramo pericoloso col tiro di Carcalis deviato a fil di palo ma al sesto tocca a Narciso fare l'istraordinario sulla rasoiata di Armà partito in posizione sospetta Sanzovini strappa applausi con una gran giocata al quattordicesimo l'ultima della sua partita prima di lasciare il campo a Petrella ventiquattresimo di Paolo Antonio serve da piazzato Speranza che schiaccia e la palla finisce di un soffio sopra la traversa Pordenone all'assalto e Teramo di rimessa è questo il tema della ripresa la girata di Armà è deviata in angolo poi il Teramo è il match ball quando Petrella serve di Paolo Antonio che si fa murare da Tomei in uscita Tedino gioca anche la carta Martignago che al trentaduesimo ha la palla del Pari su servizio di Padovan Narciso è ancora Super e al quarantesimo la buona sorte si ricorda del Teramo Tomei respinge la botta di Tempesti ma semenzato calibra male il retropassaggio e scavalca il suo portiere imbarazzante autogol che vale il raddoppio del Teramo che sa di liberazione e che evita sofferenze finali il diavolo è tornato pronto alla battaglia salvezza quando uno parte dall'inizio costruisce una scuola con la sua mentalità quando si subentra la classifica è questa la classifica non è la classifica degli anni passati la classifica oggi dice che prima di questa partita eravamo penultimi che avevamo una partita da recuperare che avevamo delle difficoltà perché torno a ripetere se ci sono stati tre campi di allenatore vuol dire che qualche difficoltà c'è stata di conseguenza loro sono stati bravi ragazzi perché si sono calati in questa mentalità non so se prima sicuramente l'hanno fatta anche prima oggi abbiamo avuto quel pizzico di fortuna però la fortuna torna a ripetere bisogna andarla a cercare oggi quello che mi è piaciuto è l'atteggiamento il fatto che poi siamo caduti in una sorta un po' di provocazione via dicendo tutto però abbiamo dimostrato anche su qualsiasi situazione che ci siamo e questo deve essere l'atteggiamento questa è la nostra classifica e questo è il campionato che dobbiamo fare il bel gioco verrà probabilmente con il tempo però in questo momento bisogna fare punti ora andiamo sulle pagine del centro per parlare di Pescara la serie A parla De Cecco dice Zeman il padre Pio del calcio italiano spero che non sia troppo tardi per la salvezza del Pescara se la squadra non dovesse farcela per due o tre punti tutti darebbero la colpa a Sebastiani il rapporto con Oddo andava interrotto prima ma più per scelta del nostro ex allenatore e poi pienone sulle tribune del Poggio degli Olivi centinaia di tifosi per seguire gli allenamenti tre pullman e tante auto in allestimento per Verona l'attaccante rivelazione Cerri dice il boemo parla poco ma sa essere essenziale il giovane di proprietà della Juventus dice la salvezza ci crediamo tutti e ci proveremo la mentalità deve essere quella di cercare sempre la vittoria senza fare tabelle domenica ho saputo di essere titolare un'ora prima della partita e lì ho capito che era arrivata la mia occasione sono sceso in campo con tutte le energie e allora ieri proprio ai nostri microfoni c'era Alberto Cerri lo ascoltiamo Alberto allora come sono questi gradoni di Zeeman? sono pesanti però si fanno si fanno speriamo che servino sicuramente serviranno per domenica una grande vittoria e soprattutto un grande Cerri in campo dal primo minuto nel Pescara di Zeeman sì sono stato molto contento ma come dico e ripeto e ripeto per la squadra soprattutto per la squadra perché abbiamo affrontato mesi difficili e adesso che abbiamo abbiamo ottenuto questa vittoria importante contro una squadra comunque in difficoltà ma forte siamo molto contenti e ce la godiamo adesso però l'abbiamo archiviata e cerchiamo di dare il tutto per tutto con il Chievo una persona che sa di calcio che l'ha inventato comunque è stato è stato un grande sono un giocatore di un'esperienza enorme comunque fanno sempre insomma da tanti anni che fanno sempre dei grandi campionati insomma per la società e quindi sarà una partita difficilissima noi andremo là e cercheremo di portare a casa più punti possibili e a parlare anche Stendardo fiducioso che dice i gradoni saranno utili il 35enne difensore dice il mister Zia ha rivelato un fine psicologo e poi mi ha colpito la sua ironia la Liga Pro il recupero del Girone B il Teramo si sveglia finalmente una gioia dopo 80 giorni di astinenza abate il Pordenone e si rilancia nella corsa salvezza decisivo il portiere Narciso a parlare anche il mister Ugolotti che dice il merito dei ragazzi il patron Campitelli ha dichiarato visto una squadra vera era ora e applaude Altobelli vediamo anche le pagine dedicate allo sport del messaggero in apertura Cerri che dice Pescara nel destino contro i biancoazzurri spero contro i biancoazzurri avevo debuttato in A con questa maglia ho segnato il primo gol due date indimenticabili spero di ripercorrere le orme di tanti attaccanti esplosi con il Boemo e se scendessimo in B mi piacerebbe restare a parlare anche Stendardo che dice il tecnico tanto lavoro ma anche ironia avevo sognato un giorno così con gol e applausi ora serve continuità per tenere vivo il campionato continua la dichiarazione di Cerri e poi per la Lega Pro il Teramo un sospiro di sollievo dopo 80 giorni ritrova la vittoria 2 a 0 contro il Pordenone nel recupero Campitelli ha dichiarato così ci salveremo e Ugolotti dice bene così ma il traguardo è lontano oggi tutti i ragazzi hanno avuto lo spirito giusto e allora con lo sport noi concludiamo la nostra rassegna stampa prima di salutarci ricordiamo che l'appuntamento con l'informazione del Tg6 arriva nella prima edizione alle 14 invece la rassegna stampa di mattino 6 torna domani puntuale alle 7 buona giornata grazie a tutti grazie a tutti